Questa qui è stata un po' la trovata di quest'anno, perché come ho detto, ci siamo chiesti, ma uno che mette giù, adesso lasciamo stare le cose piccole, pensiamo alla classica per l'artigiano, punto punto, l'artigiano poi voluto, che costa 200.000 euro. Devi imparare, se è la prima, devi imparare ad usarlo, devi istruire il personale, devi trovare il posto, tanto la parla, perché alla fine la parla. Allora, dov'è il vantaggio? Che a questo tempo di metterlo. Possiamo anche ignorare il discorso del rating, guardiamo in faccia il cliente e diciamo va bene, ok, punto. Chi invece ha dovuto costruirsi sistemi per avere minore assorbimento patrimoniale basato su quello, lo deve mettere in pratica, noi comprendiamo queste cose perché poi quando andiamo nelle riunioni nazionali le sentiamo. Quindi c'è chi ha questo problema grave. Abbiamo dei finanziamenti dedicati anche per il risparmio energetico, così come abbiamo i finanziamenti, parliamo di festa del legno, della partecipazione al salone del mobile, con 30.000 euro all'1%, oppure partecipazione ad altre fiere da restituire in 18 mesi al 3%. Poi abbiamo dei finanziamenti sempre per partecipazione a fiere, se le aziende vanno in aggregazione con dei tassi del 2%. Ci sono altri finanziamenti che non abbiamo tolto, però ci piaceva far notare lo sforzo della banca sugli investimenti produttivi. Tutte le altre cose rimangono qui. Finanziare l'1%, 30.000 euro in 12 mesi solo con la presentazione dell'iscrizione, del pagamento, dello spazio positivo, fine della documentazione.